Per non dimenticare Antonio, Gerardo, Giovanni e Matteo torna l'appuntamento con il Memorial Ponte Morandi, il torneo regionale categoria Under 17, giunto alla quarta edizione. Questa mattina nella sala consigliare di Palazzo Baronale la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa promossa dall'Associazione Monsignor Michele Sasso. In rappresentanza dell'amministrazione comunale abbiamo ascoltato il Presidente del Consiglio Gaetano Fruglio. Questa amministrazione si è messa al fianco degli organizzatori che con tanta capacità sono riusciti a portare avanti questo progetto nonostante l'interruzione Covid che avrebbe potuto giustificare un allontanamento da questo momento che invece continuo a ritenere fondamentale per identificarci come città unita e con una sensibilità spiccata che ci ha sempre caratterizzato e dovrà continuare ad essere così. In conferenza stampa ha lanciato anche l'idea di un premio per le scuole per rendere omaggio ai quattro angeli di Torre del Greco scomparsi tragicamente a Genova il 14 agosto del 2018. Noi come Comitato Regionale Campania siamo onoratissimi di partecipare a questo torneo che tiene viva la memoria di quattro giovani e attraverso queste giornate noi abbracciamo virtualmente quelle che sono le famiglie, il cui dolore è davvero inimmaginabile, però noi vogliamo ricordare la gioia di questi ragazzi e lo vogliamo fare veramente giocando di squadra con tutte le istituzioni. Abbiamo proposto come Comitato di unire a questo torneo così importante anche un premio, proprio il premio e il ricordo di questi giovani da dare a quelli che sono gli alunni delle scuole per poter veramente trasformare queste giornate di ricordo in un momento in cui le istituzioni tutte lavorano anche per costruire un futuro migliore. Il calcio d'inizio è previsto oggi alle 15 allo Stadio Liguori, prima con Turris Cavese e poi Napoli Lega Nazionale Dilettanti Campania. Giovedì 15 alle 9 la finale per il terzo posto e alle 11 la finalissima con la cerimonia di premiazione nell'area conviviale dello stadio. Ogni anno arriva questa data maledetta insomma dove dobbiamo onorare poi i ragazzi con questo torneo organizzato dal Monsignor Michele Sasso e ovviamente è una manifestazione molto importante per noi torresi soprattutto. Il torneo si svolgerà a Liguori a Torre del Greco con una partita alle 17 se non sbaglio tra Napoli e Lega Nazionale Dilettanti, rappresentanti della Lega Nazionale Dilettanti e noi Turris contro gli amici della Cavese. Ovviamente saranno delle semifinali e domani si farà la finale. Ovviamente tutto svolto per onorare al meglio i ragazzi e le famiglie delle vittime per rendere sempre vivo il ricordo.